Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, in questo video voglio mettervi a confronto 5 creme mani più un jolly vi ho già fatto un video del genere, vi lascio il link tra le schede nell'info box dove appunto vi metto a confronto delle creme mani e vi lascio inoltre anche la playlist dove vi ho messo tutti i video dove metto a confronto vari prodotti quindi sto registrando con il telefono quindi fatemi sapere come si sente perché io ho sempre paura che magari dal pc si possa sentire meno la voce più bassa però con il telefono faccio veramente molto prima a registrare perché non devo montare i cavalletti eccetera quindi se mi dite che si sente bene io magari a volte registro con il telefono perché è molto più pratico comunque mi raccomando fatemi sapere come si sente e come si vede anche allora parto con il jolly il jolly è questo qua che è la maschera per le mani di Vianek non è attestata sugli animali, ha un buonissimo inci anche se non è certificata la maschera in questione è questa qua e viene venduta insieme ai suoi guantini di cotone può essere utilizzata come crema mani e anche come maschera io la utilizzo come maschera e mi trovo benissimo i guantini sono un po' ingialliti ma io li ho già lavati svariate volte però rimangono così, rimangono macchiati comunque i guantini non sono tanto grandi ho delle mani normali e ad esempio tra le dita un pochino mi stringono quindi se avete delle mani grandi secondo me questi guantini non vi stanno però potete anche acquistarli, li vendono a un euro nei negozi potete anche acquistare dei guantini in cotone della vostra misura e poi applicare questa allora la profumazione di questa maschera per mani non mi piace non mi fa impazzire perché sa appunto di crema ma quelle creme che usavano prima tipo con le creme solari insomma la profumazione non mi piace è una crema abbastanza ricca io la vado a spalmare sulle mani in quantità generosa dopodiché applico guantini e aspetto posso aspettare dai 5 minuti a un'ora tutta la notte dipende da quanto tempo ho e quando la applico in ogni caso anche se applicata per 5 minuti e lasciata in posa per 5 minuti fa delle mani morbidissime, super nutrite rimangono nutrite per giorni se avete appunto le mani screpolate, secche che hanno bisogno proprio di un trattamento d'urto questo è quello che fa per voi inoltre io siccome mi mangio sempre le pellicine ho sempre appunto la zona intorno alle unghie molto secca e più mangio pellicine e più che queste si vedono con questa maschera siccome va a idratare tantissimo a nutrire tantissimo anche la zona cuticole queste pellicine non si notano più e quindi io non me le mangio quindi se avete dei problemi come me di smangiucchiamenti alle mani questa vi può essere d'aiuto ed è un prodotto veramente comodo è un prodotto che poi nella quotidianità non si va ad usare spessissimo però appunto quando abbiamo veramente bisogno questo è la manna dal cielo passando alle varie creme parto da quelle con minore idratazione e vado a salire allora due creme che più o meno sono insieme allora la crema della CN Natur alla calendula questa qua e la crema di Balea, Latticello e Limone questa è certificata Natru questa non è certificata nel mio blog trovate la review di questa crema a mani e insomma delle altre che vi mostro trovate giù nell'info box tutto per andare a vedere anche lì inciprezzi allora sono due creme che si spalmono molto bene sulle mani non fanno scia bianca non ungono non appiccicano hanno una texture molto leggera sono abbastanza fluide questa è leggermente meno fluida dell'altra questa secondo me ha una marcia in più rispetto a quest'altra perché è leggermente più idratante e è anche si avverte un pochino meno sulle mani nel senso non che questa va a pesantire o ad ungere però leggermente un pochino ecco si ha la sensazione di aver applicato la crema mentre con questa no quindi questa non ha marcia in più sono due creme che trovo adatte per il periodo più caldo adatte a delle pelli normali che hanno bisogno di una leggera idratazione sono adatte ad applicare più volte più volte durante il giorno se si ha fretta però non sono delle creme adatte al periodo più freddo o se si hanno delle mani particolarmente secche e scricolate ecco queste anche per il prezzo che hanno vanno benissimo le promuovo però se abbiamo bisogno di qualcosa in più queste fanno ben poco poi una crema che è idratante che mi sta piacendo molto e che poverina è quasi finita è la crema della linea amidina all'amido di riso della dispensa è una crema certificata IAB e nickel tested questa mi è stata omaggiata dall'azienda ha una profumazione molto delicata è una crema molto delicata si assorbe in fretta non fascia bianca non unge non appiccica anche questa ha una texture fresca e leggera non leggera come queste due si parla siamo su due livelli di qualità diverse anche di fascia di prezzo diversa però comunque ha una ha una texture molto leggera è idratante è delicata la trovo adatta un po' a tutti i tipi di pelle anche ad esempio a quella dei bambini a persone magari che sono allergiche a molte cose hanno la pelle un po' più sensibile questa secondo me è molto adatta mi piace tanto è adatta a tutte le stagioni a tutti i tipi di pelle è adatta ad applicare più volte durante il giorno mi piace mi piace molto però anche qua se siamo abituati ad utilizzare qualcosa di più corposo per l'inverno perché abbiamo le mani devastate questa forse non ve la consiglio però ad applicare durante il giorno può essere comoda e infatti a me piace tantissimo una crema che trovo ottima è questa qua di Winnis Natural in questa linea si può trovare nelle farmacie, parafarmacie e in alcune erboristerie vi ho parlato della crema viso di questa linea vi metto il link tra le schede nell'info box di quel video è un video dei top e dei flop quella crema viso secondo me è fantastica questa crema a mani è fantastica come quella crema viso è un trattamento per mani ed unghie ristrutturante ed elasticizzante è fantastico perché allora intanto la profumazione è leggerissima e quasi non si avverte questo è ottimo perché quando abbiamo delle creme particolarmente forti di odore di profumazione come ad esempio queste due un pochino mi dà l'idea di avere le mani sporche non so come mai è una sensazione mia nulla di che però e questa è molto delicata come profumazione quasi non si avverte è certificato Icea e vegan ok ne basta poco è una crema abbastanza corposa questa si assorbe alla velocità della luce voi la mettete sparita però anche se non si avverte sulle mani le mani rimangono morbidissime vellutate e nutrite a fondo cioè proprio sentite l'effetto velluto sulle mani e veramente le mani rimangono nutrite per tutto il giorno quindi è un trattamento che trovo favoloso per tutti i tipi di pelle anche per quelle molto molto secche e lo trovo adatto per tutte le stagioni veramente ottimo adatto anche da applicare magari nella notte in una quantità leggermente più abbondante veramente ottima se trovate questi prodotti io ve li consiglio perché per adesso ne ho provati due e tutte e due sono dei super top ho anche la crema corpo però quella la sto utilizzando da troppo poco tempo e non posso ancora parlarvene però veramente dei prodotti ottimi l'ultima crema mani è questa qua di dottora Ushka è un trattamento nutriente e protettivo che mi piace tantissimo è un balsamo giallino non proprio un balsamo però quasi un balsamo di colore giallino profumazione erbosa erbacea molto naturale è una crema mani che a me piace tantissimo questa io la utilizzo solamente in inverno perché è molto ricca anche se non è pesante non è unta non lascia appunto le mani appiccicose va veramente a nutrirle in profondità però per il mio tipo di pelle questa in estate è veramente troppo quindi la applico in inverno la applico anche la notte in maniera un po' più abbondante ed è veramente fantastica veramente molto molto buona anche se non batte la crema mani alla calendula del dottor Scheller che quella proprio è favolosa però quella un pochino è più quella si avverte sulle mani non è che perché è un po' più pesantina però quella è veramente un trattamento nutriente a tutti gli effetti questo è un trattamento nutriente però un pochino meno pesante tra virgolette di quello del dottor Scheller comunque è una crema mani che io adoro ne ho utilizzate in varie confezioni e questa è l'ultima purtroppo però veramente è un prodotto molto molto valido quindi queste sono le creme mani che volevo mostrarvi fatemi sapere se le avete provate se avete qualcosa da consigliare mi raccomando se ancora non l'avete fatto lasciate un like un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao